Ciao ragazzi, ciao Luigi di vacanze per vacanze. Sto passeggiando, è il giorno dopo l'immacolata, per andare a fare delle gare anche qui. Si vede la festa del nepale, no? Si avvicina. Qui c'è un mix di religione cattolica, insomma, c'è un po' di hit, insomma. Come sempre abbiamo detto quello che ci interessa è l'uomo a prescindere da lui. Io ho parlato insieme a questioni mazzaghiere. Allora io sono andato a comprare dei souvenir per il mio staff. Soprattutto per farvi vedere che c'è Silana, anche come la sera. Guardate ancora, immaginatevi la chittà che forse non ti aspetta. Eccoci qua, creperie, no? Luce ancora a blu bobo di miei vari negozi. Questa si vuol dire che è un canale del flusso, no? Una via, diciamo, perpendicolare a quello che è il boulevard, il grande boulevard, che è un po' più maestro, di fuoco e come vedi davanti a me i negozi. Ovviamente i negozi molto moderni non manca assolutamente nulla. E poi si passa di qua magari per vedere tutte le più classiche come ci sono una volta da noi. con ancora i ristoranti, i piccoli uvantini, i gelaterie. Ecco, i ragazzi, questa è una vestieria addirittura. Ecco, questo è un barriere. Ed eccoci qua, una farmacia, vedi? E diventiamo che stesse, magari sotto un'altra forma, ma alla fine io ho comprato tutto quello che mi serviva senza avere nessun tipo di problema. Ecco, qui ci avviciniamo un po' più, come si vede, al località centrale. Qui davanti a me, a 50 metri, c'è la prima piazza dei buri, guarda, adesso io vivrò ad essere attraverso la strada, diventiamo un attimo, poi pisa mi mettono sotto. E qui, ecco, l'altro, io vi saranno tutti, il wine e spiriti qui, dove devo scegliere i vini e la piazza. Poi ancora, vi gozzi un po' di... e qui, ecco, questo è un market di rivolte a banesì. Ok, andiamo da questa altra parte. Ecco, adesso, attraverso, se no! Ah, buona bella, che ma sti schiena. guarda i reclami opera eccoci eccoci qua bar classico gli italiani ne sentite parlare in ogni angolo un fantastico negozio che ho trovato guardate quante mani ecco patamucci belanque gelar confort personal c'è di veramente bellissimo state a vedere come devo dire questo addirittura un filo che sono tutti gli italiani e ti guarda non ti capisco questi sono i miei grossi e hanno anche le due varie ecco io adesso giro anzi attraverso le macchine di ieri si fermano sempre e se non non so l'ultimo la zona si fermano le macchine adesso vado anch'io e sono fermati e ecco così qua a posto iniziamo questa passeggiata i negozi a non creare i negozi di intime cruisin come vedete non non vi aspettate proprio l'anno quel come si dice chi non so la larghezza cimano quando vi siete qui richiudatevi che sono un pover e molto orgoglioso ci tiene molto alle sue attenzioni e di conseguenza specie le nuove generazioni hanno praticamente le stesse cose nostre è ovvio che chi è abituato a girare provare le differenze niente di particolare non tira questa mia passeggiata però di cose particolari i viuti saloni con tutto e lui per dire ah inoreggio vedi inoreggio tra le mie pezzi an'agenzia l'uristia sarebbe un mio collega almeno dove s'altra parte il gene per dire ad occhio chi fura quel settino avanti in fondo a me qui io devo arrivare qui alla terza uscita per vedere il negozio che sta cercando happy e all'interno di queste stradine si trovano locali particolarmente strani ecco ora che gusta la puglia negozi ovviamente di prodotti figieri alimentari di nostra produzione qui un'altra di una triuga ce ne sono tanti ma io come vacanze centrali abbiamo scelte qualcuna e poi vedo di là ovviamente ancora altre farmacie ovviamente mi manca assormenti noi ecco ci sono tanti negozi ancora la legge maniera lì ci vengono giurideria ecco molto particolare poi è una bellissima prefetteria dove ho già già dai chio eh ci acquista sì e sia questa di acquistata dunque veramente la sera se uno vuole non finisce ma ecco è la nostra è qui guarda proprio e se arriva prendete la pecore ecco ragazzi uno dei grandi buoni di lana tutti di ogni nado sembra quasi pescanzisi tutto in lato fino fino in fondo guarda che carino avanti a me ecco poi c'è qui il nostro centro da questa altra parte qui invece ecco qui c'è palazzo del presidente se mi ricordo bene e poi ovviamente il nostro centro come carino non potevano entrare no ehi ah va bene vai ve lo sviro il palazzone che è qui davanti palazzone veramente in architettura comunque i primi anni 80 sì diciamo ancora posso comunista ma è roggin hotel visto anche nelle possibilità sono una volta che siccome si risparmia abbastanza uno potrebbe dire ok quando torno me ne sto cinque segnini e magari mi faccio la spa e mi rilasso perché non ci sta anche per bagarsi del treno e non vengo qua risparmi un po' di soldini e mi tratto meglio quando lo sei caliente in camera mentre io in pieno centro di tirano come il cartone volto e fatto vedere prima io l'ho visitato stupendo e alla fine del viaggio abbiamo trovato anche il negozio di souvenir d'albania vicino alla chivini e qui si fa per tornare a casa ecco vicino l'artigiano qui qui ho mangiato anche la pizza io sai sì niente da dire ovviamente venire presente sempre le dovute differenze però tutto sommato era buono ok adesso si fa per tornare a casa e ci vediamo e ci vediamo a casa e ci vediamo a ribagare a a a a Grazie a tutti.